A Milano, Marche Multiservizi si conferma protagonista assoluta dei top utility. La dodicesima edizione del premio riservata alle aziende dei servizi pubblici locali nei settori di energia, acqua e rifiuti ha visto la multi utility pesarese vincere nella categoria territorio e comunità e ottenere la nomination anche per le categorie top utility assoluto e formare talenti, risultando dunque tra le migliori aziende di servizi italiane in tre categorie sulle sette complessive. Il premio si configura come una selezione basata sull'analisi di performance e di circa 175 parametri elaborati dal team di ricerca della società Altesis. Il premio top utility è considerato il team tank italiano di riferimento nel settore delle public utility e tra le aziende finalisti figuravano nomi quali Acea, Enel ed Era. Per Marche Multiservizi si tratta del quinto Oscar ottenuto in 11 anni. Sicuramente è un premio molto importante, siamo molto orgogliosi e lo voglio condividere con tutti i dipendenti e i colleghi dell'azienda perché chiaramente sono loro che, con il grazie del loro lavoro quotidiano, ci consentono di essere qua e di tirare un premio importante per un'azienda come la nostra. Sicuramente far parte di un gruppo importante come Era è fondamentale perché ci consente di beneficiare di expertise, know-how, innovazione.